amici di battista 70 phone come vi avete richiesto ora faremo la prova polvere ed acqua allora in quanto a polvere non sapevo cosa procurarmi ho preso del pangrattato ce lo buttiamo sopra glielo spalmiamo per bene ovunque facciamo in modo che si sporchi per bene andiamo anche a pressarglielo su un po davanti di dietro ovunque lo conciamo un po ora mi piange il cuore farlo intanto andiamo a sbloccare il display come potete vedere è vero non è finto il display scorre e ora spero bene che sia tutto vero quello che è stato scritto lo vado a buttare in acqua come vedete il nostro bel è una miseria reagisce anche sott'acqua come vedete abbiamo messo in acqua adesso gli diamo una bella sacquatina questo momento il touch fa un po fatica a reagire però vediamo come vedete continua a funzionare ovviamente adesso penso che l'audio potrebbe un attimo gracchiare però proviamo a sentire l'audio no non questa roba qui la mia musica mia vabbè dai primo che viene andiamo a sentire no neanche tanto non gracchia più di tanto abbiamo ovviamente fatto un po fatica a recepire adesso perché è bagnato però se vuoi dire che prova pulgere diciamo pangrattato come lo vogliamo chiamare è stata ben assorbita no no anche l'audio è buono mi ricordo di aver fatto eh adesso vabbè ogni tanto magari un po' di impuntamento ci può stare in questo momento io mi ricordo di aver fatto la stessa prova con un altro dispositivo e si era incartato ok fermiamo qua adesso lo prendiamo andiamo a chiudere e andiamo a dargli una bella intanto qua togliamo l'acqua andiamo a dargli una bella asciugata come si deve così almeno gli diamo anche una bella pulita questa prova mi fa tanto casalinga 70 phone andiamo a pulirlo dopo lo pulirò meglio con qualche straccetto diciamo come si deve ora andiamo a riaccenderlo ed ecco qua il nostro bel tablet funzionante come prima ok spero che la prova sia stata di vostro gradimento vi dico che sinceramente mi ha messo un po' d'ansia con questo concluso un saluto da Noris Aglias Battista 70 per Battista 70 phone ciao